dove c'era una folla.f attraverso francesca r 7 marzo 2023 a cura di vb domanda molti anni fa con lo strumento non vedente del cerchio k andavamo in una chiesa vicino piazza venezia a roma dove c'era una folla di due trecento anche quattrocento persone li pregavamo collettivamente ad intervalli irregolari da un microfono vicino all'altare qualcuno avvertiva che la preghiera fatta da poco dal nostro insieme preghiere tradizionali gloria patris pater noster ave maria eccetera aveva sortito l'effetto desiderato e la persona malata si sentiva meglio che cosa funzionava se funzionava qualcosa la forma pensiero guida sempre domanda quindi è vero guida è sempre vero tramite il congiungimento delle mani tramite il pregare il dio dell'energia collettiva pregare il dio dell'energia collettiva vuol dire inviare una forma pensiero consapevole di alcune capacità umane se la forma pensiero non è consapevole si aggancia comunque all'aiuto che serve al malato domanda una volta sono stato testimone di una persona che è stata fisicamente spostata all'indietro ed è svenuta ma nessuno l'ha toccata questa non è una forma pensiero questa è proprio un'energia fisica guida ma la forma pensiero diventa un'energia fisica a livello non incarnativo ogni piccolo passo che voi muovete e è abitato da entità non incarnate è abitato da un'energia fisica guida ma l'ha toccato 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 da un'energia fisica guida